Diversi sono stati ultimamente i casi in cui i ladri hanno preso di mira garage e cantine di condomini o accessi diretti dagli scantinati agli appartamenti dei residenti. A Pesaro, tanto per citare gli ultimi episodi di cronaca, nella zona di Soria blizzi di ladri nei garage e conseguente razzia di biciclette e motorini. A Lucrezia di Cartoceto poi in passato furti in serie lungo Circonvallazione Kennedy, passando dalle porte dei garage sul retro direttamente nelle abitazioni. E spesso tutto questo avviene anche in pieno giorno, come il recente episodio accaduto a Fano nel quartiere di San Lazzaro, non molto distante dalla caserma dei Carabinieri, dove un giovane sui 20 anni alle 16 di pomeriggio ha tentato furtivamente di introdursi dai garage in appartamenti o in tavernette delle abitazioni, ma questa volta gli è andata male perché si è trovato faccia a faccia con un carabiniere in pensione che lo ha messo in fuga e che ora lancia un'allerta a tutti gli abitanti della zona. Ero in cantinetta, stavo lavorando al computer, quando ho sentito leggermente spostare la maniglia della porta tagliafuoco che dà sull'interno dei garage. A quel punto piano piano ho aperto la porta e mi sono trovato dall'altra parte un ragazzetto sui 19-22 anni che già stava provando su un'altra porta vicino alla mia, un'altra tagliafuoco. Quindi stava tentando di introdursi da qualche parte? Sì, stava cercando di vedere se magari c'era qualche porta aperta per poter entrare e probabilmente non so, o per biciclette, ma secondo me mi sembrava più un sopraluogo. Era le 16.15, perciò era giorno, era prestissimo, ho chiesto cosa fai qua? E lui mi ha risposto già subito prendendo la strada verso l'uscita, a farfugliato il mio amico, cerco il mio amico, cerco il mio amico. A quel punto ho approfondito, perché poi la cosa mi convinceva poco. E chi è questo tuo amico? E tu aspetta un attimo che adesso chiamiamo i carabinieri. A questa frase ha messo proprio le ruote ai piedi e schizzato fuori in maniera mostruosa, insomma, velocissimo. Però ti dico, stiamo un attimino con le orecchie dritte, pertanto stare sempre un attimino sul chi va là, anche se è giorno, anche se non deve essere proprio notte, insomma.